Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Oggi riprendiamo una serie che avevo lasciato in stand-by per tanti tanti mesi, assolutamente mia colpa, dedicata alla storia della medicina. Una serie che ci ha prima portato a esplorare piccoli grandi avvenimenti legati proprio alla medicina, soprattutto nel corso degli ultimi secoli, e poi invece è iniziata a raccontare in maniera un po' più organica, un po' più organizzata, proprio lo sviluppo dell'arte medica. Dalla medicina egizia, molto legata alla religione, molto mistica, con poca base realmente scientifica ed è incredibile per un popolo che aveva ottime conoscenze di anatomia, teoricamente, grazie alla preparazione dei corpi. Poi ci siamo spostati in Grecia, dove l'aspetto religioso ha iniziato a lasciare spazio invece proprio alla scienza, allo studio dell'anatomia, alle prime supposizioni di fisiologia. Bene, questa volta faremo un passo al di là dell'Adriatico. Continueremo quel racconto, se ve lo siete persi in descrizione trovate il link alla playlist, continueremo quel racconto e vedremo come i Romani, come facevano spesso, presero la medicina greca, a cui devono tantissimo, persino il loro medico più famoso, cioè Galeno, e la trasformarono per i loro usi, rendendolo una medicina più pratica, una medicina più pratica in ambito civile, quindi nelle città, e una medicina più pratica e utile soprattutto in ambito militare, laddove come vedremo la medicina diventò probabilmente un vero e proprio lavoro e una vera e propria scienza. Parliamo di medicina romana, parliamo di una medicina avanzata, come vedremo, ma sfateremo anche qualche mito, perché per quanto avanzata, come vi dico sempre, nulla di queste medicine antiche è vagamente paragonabile a quello che abbiamo oggi. Bisogna capirlo anche per capire quante cose meravigliose abbiamo oggi a disposizione per curarci. Ma partiamo dall'inizio e iniziamo a raccontare la medicina romana. In effetti, quando parliamo di medicina romana bisogna fare un po' di distinguo, perché la storia di Roma, anche solo a voler prendere la parte di Roma Antica, come sapete tutti, è lunga un millennio dalla monarchia attraverso la repubblica fino all'impero, un millennio in cui è evoluta non solo la cultura, non solo la società, non solo l'arte militare, non solo la tecnica, ma è evoluta anche la medicina. Anzi, la medicina a Roma in realtà ha conosciuto quasi un vero e proprio spartiacque culturale in un anno specifico, cioè il 219 a.C. Fino a quel momento la medicina romana era stata una medicina molto semplice, anzi più che di medici potevamo parlare di guaritori. Era una medicina per intenderci molto simile a quella che vi ho raccontato quando vi ho parlato dell'antichità greca oppure della medicina egizia. Una medicina che si basava su rimedi naturali, che si basava moltissimo sull'aspetto religioso, con il Dio che era visto come l'unico modo per poter guarire da certe malattie, una medicina che aveva conoscenze praticamente nulle dal punto di vista scientifico, ma si tramandava di guaritore in guaritore semplicemente osservando e ripetendo ciò che il predecessore aveva fatto, senza fare studi, senza fare ricerche, senza fare ovviamente nessun tipo di osservazione. Questo tipo di medicina, come dicevo, si basava tantissimo sui rimedi naturali, i quali in effetti potevano aiutare in caso di malattie di modesta entità, perché in effetti vi sono dei principi attivi nelle piante che possono simulare in parte i farmaci come quelli moderni. Dall'altra parte però aveva anche tantissimi difetti, perché sappiamo, in realtà più dagli autori successivi, che all'epoca si utilizzavano veramente delle erbe per qualunque tipo. Ad esempio a Roma pare che fosse molto in voga l'uso di decotti di cavolo per curare qualunque malattia, dai problemi delle ossa alle infezioni, problemi di stitichezza, difficoltà a prendere sonno, insomma un cavolo che poteva curare qualunque cosa. In questo caso probabilmente le medicine facevano poco, ma la medicina naturale a volte poteva essere dannosa. Ad esempio, non sapendo come trattare una ferita, anche perché non conoscevano i virus, non conoscevano i batteri, sapevano solo che a un certo punto la ferita poteva infettarsi e in quel caso dare un'infezione che poteva portare a morte, non sapendo come curarla sappiamo che quei medici antichi curavano queste ferite facendo degli impacchi, che quando andava bene erano di erbe e magari venivano messi dopo aver pulito la ferita, quando andavano male erano magari dei decotti, dei piastroni fatti mischiando vari materiali, varie farine, addirittura pensate dello sterco d'asina, pensate che infezioni poteva dare, e messe direttamente sulla ferita con i risultati che potete immaginare. Insomma, era una medicina che di scientifico aveva poco o nulla, ma che nonostante questo sarà molto rimpianta da alcuni anche nei secoli successivi, probabilmente nel rimpianto di questo passato mitologico in cui Roma non era ancora stata influenzata dalla Grecia. Nel 219, un anno specifico 219 a.C., però le cose cambiano. Cambiano perché secondo quanto ci racconta Plinio il Vecchio, in quell'anno per la prima volta un medico greco che si chiamava Arcagatos giunse a Roma. E cosa ci faceva un medico greco a Roma? Era venuto a cercare un nuovo mercato, ve lo dico chiaramente. All'epoca i medici che si formavano in Grecia erano diventati famosi in tutto il bacino del Mediterraneo, e molti dei sovrani del Mediterraneo ne chiedevano il loro arrivo, pagandoli anche profumatamente, affinché potessero curare loro e la loro famiglia. Probabilmente questo medico aveva sentito parlare di Roma, aveva sentito parlare della sua ricchezza, e aveva deciso di recarsi in quella città per cercare di capire se potesse trarne un vantaggio, se potesse trarne un lavoro, un vantaggio economico. In effetti, secondo quanto viene raccontato, quando questo medico arrivò a Roma, la cittadinanza ha semplicemente esploso. Immaginatevi come se in un piccolo paesino con un piccolo ospedale di provincia giungesse improvvisamente un grande primario dalla città, che è pronto a portare tutta la sua conoscenza, i suoi macchinari, i suoi strumenti. Bene, all'epoca era esattamente la stessa cosa. Il medico arrivò a Roma e la cittadinanza fu talmente presa da convincere i capi della Repubblica addirittura ad offrirgli uno stipendio, ad offrirgli un ambulatorio, ad offrirgli aiuto affinché si fermasse a Roma e iniziasse a curare la popolazione e a tramandare quello che sapeva. Ora, non è che tutti fossero d'accordo fin dall'inizio con questo medico, anche perché, a differenza di quello che facevano i guaritori romani, secondo quanto viene raccontato, questo medico affrontava i problemi in maniera diversa, diciamo più scientifica. Ora, non vi aspettate che anche con lui la mortalità fosse bassissima, ovviamente anche i greci, come vi ho raccontato nella scorsa puntata, non erano in grado di curare gran parte delle malattie, ma quantomeno l'approccio era più scientifico. Archagatos aveva conoscenze di anatomia, aveva qualche conoscenza di fisiologia e aveva ad esempio iniziato a trattare le ferite, non coprendole con del materiale che provocava solo infezioni, ma cercando di pulirle e, se così non riusciva, amputando e cauterizzando le ferite. Una cosa che oggi non si fa più, che in effetti aveva dei grossi limiti, ma che aveva comunque, era un netto miglioramento rispetto a quello che si faceva prima. Qualcuno lo trovò una grande innovazione e appunto gli pagò l'ambulatorio, qualcuno che rimpiangeva i tempi andati iniziò a chiamarlo addirittura carnefice o macellaio, proprio per questa sua tendenza di tagliare e bruciare la carne. Ad ogni modo non fu ovviamente che il primo. Man mano che Roma cresceva, man mano che entrava in contatto con la cultura greca, man mano che assimilava la cultura greca, sempre più medici di formazione ellenica si trasferivano all'interno della Repubblica. Molte volte addirittura erano le famiglie nobili che mandavano dei loro schiavi, quelli più intelligenti, in Grecia a studiare e una volta tornati in patria li utilizzavano come fossero dei servitori specifici, proprio per curare la famiglia. Talvolta questi schiavi dopo un po' venivano liberati e una volta diventati liberti abbandonavano la casa del loro padrone, si trasferivano in un'altra parte della città e qui aprivano degli ambulatori, dove iniziavano a praticare la medicina. Forse in alcune parti stipendiati dallo Stato, dalla Repubblica, ma di solito invece in via del tutto privata. Ho un problema, vado dal medico e gli pago direttamente la prestazione. Molto rapidamente questi medici iniziarono a diffondersi, iniziarono anche a diventare ricchi perché i più bravi ovviamente venivano pagati, addirittura era invalsa l'abitudine che quando un paziente guariva da una grave malattia pagava il medico anche di più. Qualcuno addirittura lasciava i propri averi una volta morto al medico che l'aveva curato per tanti anni, cosa che come qualcuno faceva notare non era una grande idea se quel medico non era onesto perché magari avrebbe smesso di curarti per farti morire prima, ma questo ce lo teniamo fra di noi. Ad ogni modo, man mano che si diffondeva la nomea dei medici greci, sempre più persone vollero diventare medici. Il risultato fu che molto rapidamente si diffusero non solo i medici come numero ma soprattutto i ciarlatani perché se oggi esiste tutta una struttura che permette di mantenere abbastanza regolamentata la medicina per cui per diventare medico è necessario fare l'università, dare un certo numero di esami, laurearsi, fare una specialità, fare un esame d'abilitazione eccetera, all'epoca tutto questo sistema non esisteva. Non esistevano in realtà neanche delle vere e proprie scuole di medicina, la maggior parte dei medici imparava semplicemente studiando e osservando da un medico più anziano che gli insegnava tutto quello che faceva. Il problema è che se quel medico più anziano era una persona rispettabile, gli studi potevano durare anni e magari poi usciva un bravo medico, talvolta invece venivano creati dei corsi assolutamente accelerati in cui in sei mesi uno schiavo diventava medico, ovviamente con conoscenze praticamente nulle e i risultati che potete immaginare. E così molto rapidamente, senza alcun controllo, progressivamente a Roma si svilupparono queste due categorie, i medici che andavano verso la scienza e i medici ciarlatani che invece progressivamente iniziarono anche a riscoprire i vecchi rimedi. Un po' come succede adesso, se così vogliamo, ma non importa. Ad ogni modo noi sappiamo molto, o meglio decisamente di più rispetto ad altre popolazioni, di come venisse esercitata la medicina a Roma. Abbiamo trovato tra molti reperti ad esempio dei veri e propri studi medici. Sappiamo che questi studi avevano un aspetto abbastanza moderno, c'era lo spazio per il medico, c'era molto spesso un lettino che serviva a visitare i pazienti, cosa che oggi sembra andata per scontata, ma che come vi ho raccontato nella scorsa puntata fu una grande innovazione dell'arte medica greca, quella di dire, prima di fare una diagnosi magari visito ed esamino il paziente, perché non era così detta come cosa. Ad ogni modo poi c'erano delle cassapanche per contenere gli strumenti, c'era una dispensa dove venivano conservate le erbe, gli unguenti, il vino, tutto quello che serviva per preparare delle medicine, non esistevano le farmacie, veniva fatto tutto dal medico, insomma quasi un'organizzazione moderna. Queste strutture piccole, questi ambulatori, ne abbiamo trovato ad esempio uno anche a Pompei, contenevano poi al loro interno un gran numero di oggetti preparati specificatamente proprio per il medico, per la medicina. Sappiamo che dal punto di vista tecnico i romani riuscirono a dare una netta evoluzione, soprattutto in ambito chirurgico, dove vennero creati un gran numero di strumenti specifici per aiutare il medico. Ora, ovviamente non si trattava di fare dei grandi interventi, non vi immaginate che facessero dei giganteschi interventi a cuore aperto, perché non era così? Capitava che facessero interventi sull'intestino, aprissero l'addome, ma in assenza di antibiotici erano interventi che avevano una mortalità altissima e venivano fatti solo in caso di morte ormai imminente. Esistevano però molti interventi più piccoli, per drenare ascessi, per curare delle ferite, fare piccole incisioni, tutti interventi che proprio necessitavano di strumenti specifici, che è poi quello che succede anche oggi, perché anche oggi i chirurghi letteralmente si creano, ovviamente non in modo personale, ma a livello mondiale, degli strumenti specifici per fare i vari interventi. E questi strumenti li abbiamo trovati, le sto facendo passare qualcuno nelle immagini, sono strumenti molto spesso in metallo, che hanno degli usi specifici, dei bisturi, delle pinze, dei divericatori per allargare le ferite, per tagliare in maniera particolare della carne ormai morta, insomma stiamo parlando di strumenti chirurgici molto specifici e molto affascinanti, che talvolta si arrivano anche per usi ancora più specifici, come ad esempio strumenti per la cura dell'occhio o per l'analisi dell'orecchio e della bocca. Questi ambulatori erano però lo stadio più avanzato in ambito civile, ora si trova scritto da molte parti che a Roma vennero inventati gli ospedali, ora quando parleremo dell'aspetto militare vedremo che qualcosa del genere dal punto di vista militare c'era, ma dal punto di vista civile assolutamente non esisteva, i medici operavano in piccoli ambulatori personali, gli ospedali, almeno come li intendiamo oggi, non esistevano. Esistevano delle strutture per malati, quello sì, ad esempio una, la più famosa, venne costruita probabilmente all'inizio del III secolo a.C. sull'isola Tiberina, nel centro di Roma, tra l'altro nel punto esatto dove oggi c'è un ospedale, il Fatebene Fratelli. Ebbene, quell'edificio non era un ospedale, non era un posto dove la gente veniva mandata per guarire, ma era molto probabilmente un lazzaretto, cioè un posto dove chi era affetto da malattie potenzialmente contagiose, che potevano essere diffuse o da malattie ormai terminali, veniva spostato per allontanarlo dalle persone sane. Talvolta guarivano, talvolta invece morivano, ma quello che gli si poteva dare non era nient'altro che assistenza. Ad un certo punto l'uso di queste strutture per scaricare un po' sullo Stato, sui benefattori, chi aveva delle malattie, iniziò ad essere talmente diffuso che, pensate, l'imperatore Claudio vuol dire che, qualora uno schiavo fosse stato mandato in un lazzaretto perché malato, se guarito, sarebbe stato considerato libero e il suo padrone non avrebbe potuto riprenderlo. Questo per evitare che alla minima malattia lo schiavo venisse scaricato lì e poi ripreso una volta guarito. Tutto questo per quanto riguarda l'aspetto civile. Laddove invece la medicina era stata realmente organizzata in maniera molto precisa e molto molto interessante è l'ambito militare. In ambito militare, se diciamo in ambito civile non c'era una vera organizzazione e non era neanche definito cosa dovesse fare una persona per diventare medico, tutto questo invece in ambito militare non esisteva. Perché lì invece esisteva una vera e propria struttura creata dallo Stato che si sviluppò soprattutto in epoca imperiale che permetteva ai legionari di avere aiuto medico. Perché ci si rete ben presto conto che fornire di medici, fornire un aiuto medico alle truppe permetteva di ridurre la mortalità in battaglia, aumentare il numero di uomini che erano disponibili per la battaglia successiva perché le ferite non si infettavano, guarivano più in fretta e addirittura intervenire in anticipo e prevenire la diffusione di grandi epidemie che potevano falcidiare soprattutto nelle campagne molto lunghe i soldati e ridurre l'effetto dell'esercito romano. Come funzionava questa struttura? Beh invece a differenza di quella appunto civile funzionava in maniera molto moderna. Esistevano vari livelli di medico, c'erano i medici di livello più basso che agivano a livello di corte e che avevano peraltro un grado militare quasi come i medici militari attuali, un grado militare paragonabile a quello di centurione pur non avendo possibilità di comandare e poi c'era una vera e propria gerarchia, appunto questi medici nelle corti, medici invece che gestivano l'intera legione e poi addirittura c'erano dei diciamo direttori medici che controllavano l'aspetto medico su grandi e vasti fronti, ognuno col suo grado, ognuno con le sue funzioni. Inoltre erano organizzati anche delle strutture perché vicino alle grandi castra, alle grandi fortificazioni romane che proteggevano i valli, laddove si concentravano ovviamente la maggior parte delle truppe, lì sorgevano anche degli ospedali, da quelli più piccoli a degli ospedali veramente giganteschi, organizzati in maniera molto moderna con le stanze areate in modo da dare aria e aiutare i malati, spazi per poter camminare, spazi anche per poter passare e andare ad entrare nelle varie stanze in modo da poter portare aiuto in caso di necessità, spazi organizzati in cui esistevano delle stanze su cui si poteva operare, delle stanze in cui fare delle visite, delle stanze in cui venivano spostati invece i malati infetti, quelli che dovevano essere tenuti lontani dagli altri. Sappiamo che questi edifici venivano costruiti in punti specifici, scegliendo il posto più salubre dell'accampamento, possibilmente quello più lontano da laddove si svolgevano i lavori, ad esempio dove c'erano i fabbri, in modo da dare del riposo proprio ai malati. Un'organizzazione che si organizzava in questi valetudinari, cioè questi ospedali, che appunto sembrava essere molto moderna e che quantomeno nel periodo imperiale di massima crescita, diciamo fino al terzo secolo, si mantenne e si sviluppò. Si sviluppò anche perché, a differenza del civile, in questo caso la professione medica era molto regolamentata. Per diventare un medico all'interno delle regioni era necessario seguire una vera e propria formazione che durava moltissimi anni e che si esplicava non solo osservando gli altri al lavoro, e questo ovviamente essendo un lavoro molto pratico nella cura di ferite, estrazione delle frecce e quant'altro, era di grande aiuto, ma anche studiando su dei veri e propri testi, perché sappiamo che molti medici, soprattutto militari, avevano creato dei testi di formazione in cui venivano spiegate le varie tecniche, in cui venivano spiegate le varie forme di ferita, le varie forme di patologie, proprio per formare coloro che gli sarebbero succeduti. E questo ovviamente permetteva all'esercito romano di avere un netto vantaggio sugli avversari in termini di salute e di mortalità. Finora però vi ho parlato solo dal punto di vista organizzativo, punto di vista organizzativo che se vogliamo, ma di questo non ve ne parlo perché immagino lo sappiate tutti, si esplicava anche dal punto di vista dell'igiene pubblica, perché sapete i romani furono maestri nel costruire, nel migliorare le condizioni generali delle città, quindi in questo modo riducendo il rischio che si diffondessero epidemie o malattie, ad esempio grazie agli acquedotti che portavano un'acqua che per carità non era pura come la nostra, ma comunque era meglio rispetto a dover bere dell'acqua piovana. Grazie soprattutto ai sistemi fognari che nelle città permettevano di convogliare via almeno una parte degli scarti che potevano portare ad epidemie, insomma la costruzione di terme, tutte cose che migliorando la sanità pubblica riducevano la possibilità che si sviluppassero grandi epidemie che comunque ci furono, come ad esempio la peste Antonina e su cui in realtà i medici dell'epoca, come che dicevo non conoscevano né batteri né virus, potevano fare ben poco. Non vi ho parlato però dell'aspetto di innovazione medica. Ora sì, vi ho detto che c'era un'innovazione nella tecnica soprattutto chirurgica, ma in realtà durante il periodo romano ci fu anche uno sviluppo dal punto di vista delle conoscenze del corpo umano. Uno dei maggiori fautori di questo sviluppo fu colui che fu il medico più famoso dell'epoca romana e probabilmente uno dei medici più famosi dell'epoca di tutti i tempi, cioè Galeno. Galeno fu un medico greco, di origine greca, formatosi in Grecia, peraltro da quello che sappiamo diciamo una via di mezzo tra un medico e un filosofo, che esplicò però gran parte della sua carriera lavorativa a Roma a servizio degli imperatori, Marco Aurelio, comodo insomma della dinastia degli Antonini. A Galeno dobbiamo tantissimo, anzi soprattutto gli dovette molto la medicina successiva che lo elesse quasi a un proprio rappresentante e cercò di rifarsi alle sue teorie. Ora Galeno ovviamente partiva dalle conoscenze greche, di cui vi ho parlato nella scorsa puntata, quindi la questione degli umori, del bilanciamento di umori, tanto che lui stesso consigliava delle terapie che oggi ci appaiono assurde, come ad esempio i salassi, quindi togliere del sangue alle persone pensando in questo modo di farle guarire. Non succede, cioè a meno di rarissime patologie questo non succede. Però dall'altra parte era anche un uomo che si dedicò moltissimo allo studio di come materialmente funzionasse il corpo umano. Per farlo, per capire la fisiologia del corpo umano, non esitò a utilizzare, e questo purtroppo è vero, la vivisezione, cioè ad utilizzare dei modelli animali per cercare di capire, studiando l'animale, aprendolo, come funzionasse invece il corpo degli uomini. A lui dobbiamo per la prima volta la vaga comprensione della circolazione sanguigna. Ora, come vi ho raccontato nelle scorse puntate, prima di Galeno il concetto di come il sangue funzionasse nelle vene, di cosa circolasse nelle vene, non era ben chiaro. Anzi addirittura molti greci erano convinti che nelle arterie, quindi nei vasi che partono dal cuore e vanno verso il resto dell'organismo, non circolasse sangue ma circolasse invece dell'aria, che invece il sangue circolasse solamente nelle vene. Bene, Galeno cambia questa concezione. Secondo lui, infatti, funzionava così il corpo umano. L'uomo mangia, mangia, questo mangiare gli va nel fegato, quindi assorbito dal fegato, ovviamente tutta la parte di digestione attraverso gli intestini non era comprensibile, avviene a un livello troppo basso per essere vista. Ad ogni modo arriva al fegato, dove viene immesso attraverso la vena porta, che è una grande vena che passa nel fegato, nel sangue, nel sistema venoso. Qui, questo sangue venoso va in ogni parte dell'organismo e nutre l'organismo per quanto riguarda la parte di nutrimento, appunto. Una volta che l'ha fatto, rientra verso la parte destra del cuore, dove si mischia con lo pneuma, cioè con l'aria, la vita, che giunge attraverso i polmoni, diciamo attraverso l'ossigeno. Una volta mischiatosi, passerebbe attraverso dei piccoli forellini invisibili nella parte sinistra del cuore, dove questo sangue purificato e nutrito di pneuma sarebbe stato mandato attraverso le arterie in tutto l'organismo fornendo lo spirito vitale, quindi prima il nutrimento e poi lo spirito vitale all'organismo. Ovviamente non funziona così, non c'è nessun passaggio all'interno del cuore, sangue circola in un sistema chiuso, che passa prima dal sistema venoso, poi si purifica nei polmoni prendendo ossigeno, passa in quello arterioso, è vero che riceve nutrimento dal sistema digerente, ma non è così semplice come pensava, ma è quantomeno un piccolo passo avanti, che riscoperto di lì a un millennio permetterà di ripartire da qua per andare avanti con l'esplorazione di come funzioni il corpo umano. La medicina romana era anche molto probabilmente una medicina che si stava progressivamente specializzando nel corso del tempo, man mano che avanzava l'epoca imperiale, infatti probabilmente, man mano che le conoscenze aumentavano, iniziarono anche ai medici specializzarsi in alcune branche. Sappiamo che esistevano dei medici chirurghi, che si occupavano più che dell'aspetto internistico proprio degli interventi, sappiamo che esistevano dei chirurghi specializzati nella cura dell'occhio, che avevano i loro strumenti specifici, facevano anche dei piccoli interventi, ora pensate che la maggior parte di questi interventi avvenivano senza alcuna possibilità di intervenire sul dolore, sì si usavano degli oppiaci, ma l'effetto non era ovviamente paragonabile all'anestesia attuale. Esistevano dei medici specifici per la cura delle orecchie e della gola, un po' come degli ottorino laringoiatri, ed esistevano forse, su questo non c'è accordo tra gli storici, anche dei medici specializzati nella cura dei problemi femminili, delle specie di ginecologi, anche se ovviamente la maggior parte della cura dei problemi femminili era demandata agli ostetriche che si occupavano della nascita dei figli. La maggior parte dei medici erano uomini, ma sappiamo che c'erano anche dei medici donne, molto meno diffusi ma esistevano, e secondo alcuni erano proprio le donne ad aver sviluppato questa specialità dedicata alla ginecologia. E poi cosa successe? Beh, questa crescita della medicina romana progressivamente iniziò ad arrestarsi, perché il denaro venne meno, perché la religione iniziò a metterci del suo, e perché poi progressivamente con la caduta dell'impero romano tutto questo albero di conoscenze che necessitava di un lungo periodo di formazione, che necessitava la conoscenza degli scritti precedenti, che necessitava anche di fare delle sperimentazioni sul corpo umano, cosa che ovviamente progressivamente venne vietata, tutto questo sistema crollò e con la fine dell'impero romano progressivamente queste conoscenze vennero perdute e per un lungo periodo si tornò, come parleremo poi quando parleremo della medicina medievale, a una medicina di tipo più naturale. Qualcuno a questo punto ho letto che suppone che se i romani avessero potuto continuare nella fase espansiva sarebbero molto rapidamente giunti a una medicina di tipo moderno. Su questo ho dei dubbi, perché come vedremo quando poi arriveremo a parlare del 7-800, lo sviluppo della medicina è andato di pari passo con lo sviluppo della chimica e della tecnica ingegneristica per la creazione di nuove leghe, nuovi metalli, nuovi materiali. Senza quei nuovi materiali, ma soprattutto senza le conoscenze di chimica che si sarebbero sviluppate nel corso dei secoli, la scienza medica si sarebbe fermata, perché senza microscopi non avremmo mai saputo dei batteri dei virus, come non avrebbero saputo i romani. Senza l'utilizzo di particolari leghe non avremmo potuto costruire gli strumenti moderni. Senza la chimica non avremmo avuto le medicine moderne. La medicina romana rimane una medicina molto antica, che ha saputo quantomeno spostare definitivamente, almeno per un periodo, la concentrazione dall'aspetto mistico-religioso, che comunque rimaneva, perché rimanevano i tempi di Esculapio, perché si continuavano a pregarle gli dèi per la guarigione, ma lo si fa ancora adesso, dall'ambito prettamente esclusivamente religioso verso un ambito più scientifico, pur rimanendo con una grossa componente anche di tipo filosofico, che è presente anche in Galeno, che discute di medicina molto spesso, quasi come se parlasse di filosofia, proponendo delle teorie filosofiche piuttosto che delle teorie scientifiche che partono dall'osservazione sul campo. Nonostante questo rimane comunque un qualcosa di molto interessante, perché per la prima volta ci si rende conto di come per uno Stato, la medicina diventi un qualcosa di importante. Lo sarà principalmente in ambito militare, meno in ambito civile, ma inizia, diciamo, ad andare al centro, a diventare una delle preoccupazioni dello Stato. E questo ovviamente anticipa di tantissimo la situazione attuale in cui la sanità è uno dei principali, diciamo, servizi che lo Stato offre ai suoi cittadini. Bene, io mi fermo qua, spero che questa pillola vi sia piaciuta, ho cercato di rimanere più sull'ambito tecnico, ci sarebbe anche molto da dire, ad esempio, elencando quali fossero i rimedi naturali usati dai romani, ma diciamo che magari lo potremmo fare in futuro, vi metto qualche link a blog che se ne occupano, perché già l'hanno fatto molto bene. Quello che vorrei anche passarvi è questo, che come potete vedere l'evoluzione della medicina passa anche attraverso la curiosità, perché attraverso la curiosità di capire come funzioni l'organismo umano, e attraverso il suo studio, passa anche la comprensione delle malattie. Perché quando si capisce come funziona qualcosa, si capisce anche che cosa può iniziare ad andare male. Ed è una curiosità che continua ancora oggi, quando studiamo nuove malattie, quando studiamo nuove problematiche del corpo, quando studiamo come il corpo funzioni a livello piccolissimo. È una curiosità che, come sapete, mi piace portare in ogni ambito. Se il video vi è piaciuto, cliccate sulla campanella, iscrivetevi al canale e, come al solito, ricordatevi di essere curiosi, perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche, storie incredibili che nessuno scrittore, nessun regista, ormai la fantasia di mettere nelle loro opere. E se volete iniziare a curiosare, qua fianco, c'è l'elenco delle pillole, uscite fino adesso. Noi ci vediamo tra due giorni con una nuova pillola di storia. A presto, ciao ciao!